24 marzo 2017 i diritti degli agenti i diritti degli intermediari d'assicurazione rientrano nelle aule parlamentari e rientrano attraverso un'interrogazione parlamentare a firma dell'onorevole edoardo fanucci presenti a questa giornata una delegazione una foltissima delegazione disna il presidente nazionale claudio de mozzi accompagnato dal vicepresidente corrado di marino e dalla vicepresidente vicaria elena dragoni ma ascoltiamo le parole del presidente de mozzi prima dell'ingresso in parlamento presidente de mozzi i diritti degli agenti rientrano nelle aule parlamentari prima di un'impressione una battuta la prima è che la categoria c'è che la solidarietà dei colleghi si vede si tocca con mano siamo in diversi altri colleghi sono in arrivo hanno telefonato è un piccolo gesto però significa ancora una volta che gli agenti di assicurazione si riconoscono in una categoria professionale che mette al centro la solidarietà tra colleghi quindi questo è prima il primo risultato di oggi la prima cosa che mi piace anche sottolineare condividere con gli altri agenti quelli non presenti rientra nelle aule certo è uno degli strumenti che la democrazia mette a disposizione anche delle categorie professionali per far valere le proprie ragioni per richiamare l'attenzione del mondo sulle vessazioni che quasi quotidianamente siamo costretti a subire ben venga la politica buona l'ho già detto in tempi non sospetti cioè quella politica disposta ad ascoltare chi lavora e a sposarne le posizioni quando meritano di essere sposate onorevoli colleghi presenti ad ascoltare sia online che fisicamente questa interpellanza questa interpellanza nasce da una brutta storia una storia di un'italia che non riesce a rispettare quelle che sono le buone intenzioni che il legislatore pone con atti forti e fermi nel corso del tempo e di fronte a un mancato rispetto della legge chiedo al governo di intervenire perché non è una questione della liquidazione nei confronti dell'agenzia Pieri che grazie a una famiglia solida della periferia italiana fatta di più generazioni impegnate nell'attività aziendale sta in piedi ma nella normalità questa azione avrebbe determinato la sconfitta del sistema il fallimento del sistema la chiusura di quell'agenzia la perdita di posti di lavoro in questo caso non ci si è arrivati non ci si è fatta perché loro sono stati più coraggiosi più capaci più volenterosi rispetto al sistema avverso e si sono rivolti a un parlamentare una serie di parlamentari che hanno accolto la loro proposta non solo per loro ma per il sistema come ho detto in premessa e allora questo mancato rispetto della legge rappresentante del governo devono essere presi dei provvedimenti seri immediati tali da non far credere che il sistema sia questo ma il sistema è altro è quello per cui noi siamo intervenuti in quest'aula a chi prima di me pro tempo era rappresentato le istituzioni normando verso quella disposizione concorrenza libero mercato e un'apertura totale alle esigenze del consumatore e dell'utente finale grande soddisfazione per l'intervento dell'onorevole fanucci nell'aula parlamentare un intervento che ha posto la sua attenzione ritornando alla legge bersani del 2007 ma che ha posto la sua attenzione soprattutto sui diritti negati alla categoria degli intermediari di assicurazione un intervento accolto con soddisfazione dal presidente nazionale snac claudio de mozzi e anche da tutti coloro che sono stati presenti un intervento a cui è seguita la conferenza stampa dove l'onorevole fanucci ha voluto ascoltare le esigenze le problematiche che vive la categoria degli agenti di assicurazione oggi in italia un momento molto importante che come ha ricordato proprio l'onorevole non rappresenta né un momento di partenza né un momento di arrivo ma bensì il proseguio di un impegno per la tutela dei diritti degli intermediari la famiglia pieri suo malgrado è un simbolo di un sistema che non funziona ha subito comportamenti vessatori comportamenti al limite della legalità in alcuni casi si pensa addirittura dei soprusi e nel caso segnalato nell'interpellanza di cui mi assumo tutte le responsabilità una palese violazione della norma vigente norma non di un accordo tra parti private ma una norma primaria una fonte primaria del nostro ordinamento come tale e la vicinanza di tanti agenti a questa causa non deve essere lasciata da parte non deve essere vista come un caso isolato ma deve essere vista come colui il quale prova ad abbattere il muro e si assume tutte le ferite di abbattere quel muro perché poi è semplice venire dopo è semplice è facile però nessuno vuole provare a sfondare quel muro perché si sa che ci si fa male o ci si può far male quando il muro è aperto tutti gli altri verranno di conseguenza e la bellezza di trovare tanta vicinanza a questa causa dimostra che davvero non è un caso isolato ma ci sono svariati casi in Italia che potranno trovare in questa famiglia coraggiosa e volenterosa di non cedere ai soprusi un interlocutore per poter affrontare e vivere l'esperienza non da soli ma insieme perché l'unione fa la forza. Si è creata una situazione come già detto anche nell'interrogazione parlamentare durante la conferenza che con una scelta libera di prendere il plurimandato abbiamo subito dei comportamenti ostativi che ci hanno praticamente indotto a doversi dimettere. Questa è una situazione che riguarda la nostra situazione ma riguarda anche altre situazioni già vissute da altri colleghi ed è per questo che noi ci auguriamo che sia una situazione che non rimanga personale ma che ne beneficiano poi anche tutta la categoria degli agenti di assicurazione. Innanzitutto io devo evidenziare delle gravi inadempienze da parte della compagnia di assicurazione al rispetto della normativa dell'accordo nazionale agenti. violazioni che sono palesi, non sono state neppure giustificate o valutate come trattabili. Dall'altra parte devo rilevare una situazione in cui l'impresa ha voluto ingessare i miei clienti, la famiglia Pieri, con una serie di comportamenti, di imposizioni normative al mandato e imposizioni contrattuali per cui anche alla luce del dibattito di oggi riscontro che tutto ciò impedisce alla categoria degli intermediari di essere degli intermediari liberi nell'interesse del consumatore. Clausole contrattuali che riconsiderano il valore per esempio della rivalsa, peggiorandola a danno dell'intermediario assicurativo, a fronte di un decremento di portafoglio, vuol dire di fatto impedire all'intermediario di essere libero di distribuire i contratti assicurativi in base alle esigenze della clientela e questo non è vessatorio, è di più che vessatorio, è ingessante, è azione di forza. Credo che il dibattito di oggi sicuramente avrà modo di approfondire anche questi aspetti e mi auguro quindi di sensibilizzare la politica ad interventi molto mirati. La prima impressione è che finalmente qualcuno ci capisce, che una parte della politica, quella buona, è ancora disponibile verso le categorie professionali, verso i cittadini che si impegnano per rendere meno iniqui i rapporti di forza tra chi opera a contatto con la clientela e l'industria assicurativa, questi agglomerati assicurativo finanziari che a volte dimenticano i valori fondamentali della nostra professione, cioè il valore ad esempio della stabilità del rapporto, della relazione, dell'equilibrio tra le disposizioni che vengono date e gli interessi dei clienti, i nostri clienti che dovremmo tutelare sia noi che le imprese. Devo usare il condizionale perché purtroppo alle volte si ha l'impressione che le imprese dimentichino questo aspetto della loro attività. Noi come agenti non le dimentichiamo questi aspetti fondamentali e chiediamo aiuto alla politica per fare in modo che quelle grandi compagnie che dimenticano questo aspetto siano obbligate a ricordarlo, questo aspetto, anche attraverso strumento legislativo se necessario o intervento delle autorità, come in passato abbiamo chiesto, ma il fine è fondamentalmente quello di permettere a noi agenti di svolgere la nostra professione con un minimo di stabilità e serenità e con gli strumenti idonei a tutelare la nostra clientela. Con De Mozzi ce lo siamo detti, partire da qui, ripartire da qui, in realtà non ci siamo mai fermati, per andare a intavolare un percorso con tutte le parti coinvolte, tutte politiche ma anche sindacali, quindi noi siamo amici di tutti ma parenti di nessuno, per noi il merito, il contenuto è quello che conta, la vicinanza al cittadino, tutti coloro i quali sono disponibili ad apportare un'idea, una proposta, un suggerimento alla nostra causa che è quella del consumatore finale, le porte non sono aperte, sono spalancate, quindi avanti, 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 grazie per l'attenzione e il focus che concedete alla nostra battaglia. Ne abbiamo tantissime di idee, come nel corso del dibattito è stato possibile anche così illustrare, abbiamo molte idee, tra le quali anche qualche iniziativa di legge, è ovvio che bisogna preventivamente verificare la disponibilità di un sufficiente appoggio della politica, perché le iniziative di legge per poter costituire atti concreti e non solo degli auspici devono incontrare il favore di una parte importante delle Aule parlamentari. Ecco, questo è il cammino che percorreremo nelle prossime settimane. Vorrei, se possibile, impiegare qualche secondo per ringraziare i colleghi numerosi che hanno partecipato oggi ai lavori dell'Aula, fisicamente proveniendo da tutta Italia, per stare vicini non alla famiglia Pieri in quanto tale, ma alla famiglia Pieri in quanto rappresentante di una situazione in cui molte agenzie si vengono a trovare, purtroppo, a seguito di determinati comportamenti al limite della legalità di molte compagnie. E poi l'intera categoria, perché so benissimo che anche chi oggi non è qui fisicamente, ha seguito tutti gli eventi che hanno riguardato questa vertenza e l'attività del sindacato con altri mezzi, leggendo attraverso questo video. E quindi ringrazio questa categoria che una volta in più dimostra di esistere, di esserci e di sapere bene che l'Unione fa la forza. Grazie.